bene ragazzi oggi dedichiamo questa lezione a fare degli esercizi con che coinvolgono operazione ed espressione generale con le frazioni prima di iniziare quel primo esercizio fatemi ripetere il passare le proprietà delle potenze che useremo piuttosto spesso immaginiamo di avere due numeri a e b che sono delle frazioni cioè dei numeri razionali e mn dei numeri interi e numeri naturali allora se abbiamo una potenza a elevato alla n per una potenza che ha la stessa base mon esponente diverso il prodotto tra queste due potenze una potenza che ha la stessa base delle precedenti e come esponente la somma degli esponenti se invece ho una divisione a alla n diviso o fratto se preferite a alla m la potenza che ottengo alla stessa base delle precedenti ma come esponente la differenza degli esponenti ok dimmi se di questo ci occuperemo tra un istante ok che cosa significa avere l'esponente negativo dopodiché sono invece esponenti e cioè potenze che hanno basi diverse ma lo stesso esponente e sono molti per esempio moltiplicate tra di loro qui di segnalo in rosso che l'esponente è lo stesso ok allora il prodotto che risultato del prodotto è lo stesso che otterrei se facessi prima il prodotto delle due basi a per b e dopo la potenza n lo stesso vale per la divisione a alla n diviso b alla n anche in questo caso esponente deve essere lo stesso è lo stesso risultato che se facessi a diviso b e poi elevo la n ok inoltre abbiamo visto che se ho una base qualsiasi diversa da zero elevata alla zero questo fa uno abbiamo già visto anche il perché se poi ho una potenza con esponente n elevata ancora alla m c'è una potenza di potenza questo numero è esprimibile come una potenza che ha la base a e la potenza con esponente che il prodotto degli esponenti n per m ok attenzione mi sembra di avere tutte non esistono regole per la somma di potenze sono regole per il prodotto delle potenze per la divisione delle potenze ok per il loro rapporto per la potenza di potenza ma non per la somma allora cosa succede se la differenza n meno n è negativa meglio ancora vediamola così base quanto abbiamo appena visto se ho una potenza con esponente negativo alla meno n come la interpreta quindi qui ho una base che ho un numero dato e l'esponente è un numero intero ma negativo allora questo posso pensarlo voglio guidarvi nel ragionamento che conduce all'espressione che tra un poco vedremo come a ovviamente sempre la base a è diversa da 0 se no la cosa non sta in piedi a alla 0 meno n il meno n posso sempre pensarlo come 0 meno n e quindi avendo una differenza tra 0 ed n questo è quello che otterrei se avessi a alla 0 diviso a alla n che dovrei fare essendo una divisione la differenza degli esponenti ma se a è diverso da 0 a alla 0 fa 1 quindi questo posso pensarlo come 1 diviso a alla n cioè detto in altri termini 1 fratto a alla n o ancora se preferite 1 fratto a tutto alla n morale della favola se una base con un esponente negativo posso sempre pensarla come una potenza che ha come esponente lo stesso esponente cambiato di segno e come base l'inverso della base a cioè mi spiego meglio se ho 2 alla meno 3 questa è la stessa cosa di quindi un mezzo alla terza oppure se preferite 1 su 2 alla terza cioè un ottavo ok o ancora la stessa cosa vale se anziché avere un numero una frazione se ho per esempio 2 quinti alla meno 2 questo equivale a 1 fratto 2 quinti alla seconda oppure ancora meglio alla stessa potenza quindi alla seconda ma la frazione è invertita 5 mezzi che quindi in generale se ho una frazione a fratto b alla meno n questo è equivalente cioè lo stesso valore della frazione inversa b fratto a elevato all'esponente col segno più questo è quello che mi dice come comportarmi se ho un esponente negativo d'accordo? la base deve essere ovviamente diversa da zero se no la cosa non sta in piedi è tutto chiaro? se lo è procediamo con gli esercizi cominciamo da qualcosa di piuttosto semplice prendiamo per esempio il 98 a pagina 91 non so se l'avevamo già fatto o no penso di no in caso lo rifacciamo il testo è questo parentesi quadra 5 quarti per parentesi tonda 1 più 2 terzi meno un quinto chiusa tonda chiusa quadra meno parentesi tonda 2 terzi più 7 quarti meno un mezzo meno continuo di sotto meno 5 quarti ancora più 1 chiuso al quadrato più 5 per calcolare i valori di questa espressione fate attenzione all'ortografia anche qui come in italiano è importante l'ortografia quando segna una frazione l'operazione che coinvolge questa frazione va scritta allo stesso livello della linea di frazione così per esempio il più va a livello di questa frazione il meno va a livello della linea di frazione dell'un quinto e così via questo è importante soprattutto in quello che vedremo a breve allora in questa espressione come in quelle che vedremo le parentesi ci guidano in termini di qual è la sequenza delle operazioni da fare quindi prima mi occupo di quanto c'è all'interno delle parentesi tonde quindi questa è la successiva poi le quadre e infine tutto il resto quindi iniziamo per prima cosa fatemi evidenziare in verde a fare questa somma e questa ovviamente separatamente quindi riscriviamo il la quadra il 5 quarti per dentro la tonda ho 1 più 2 terzi meno un quinto qui ho tre espressioni con denominatori diversi quindi per sommarle cerco il minimo comune multiplo tra l'uno è come se avesse scusate al denominatore 1 quindi tra 1 3 e 5 che è 15 perché 3 e 5 sono primi tra loro poi dopodiché prendo il 15 lo divido per ciascun denominatore in questo caso 15 diviso 1 che fa 15 per 1 di nuovo 15 e lo scrivo al primo numeratore poi ricopriamo il segno più 15 diviso 3 che fa 5 diviso 2 e moltiplicato per 2 che fa 10 poi ricopriamo il segno meno continuiamo la frazione 15 diviso 5 che fa 3 per 1 3 ok? e chiudo la parentesi poi svolgeremo le operazioni dopo meno nella seconda parentesi tonda abbiamo denominatori che sono 3 il 4 il 2 di nuovo il 4 e ancora l'1 quindi il minimo comune il multiplo tra 3 4 2 ancora 4 e 1 è 4 qui ho sbagliato perché ho scopiato male chiedo scusa questo non è 2 terzi ma è 3 mezzi adesso controllavo il testo 3 mezzi quindi il minimo comune multiplo tra 2 4 2 di nuovo 4 e 1 è 4 scelto il denominatore comune cioè il minimo comune multiplo prendo 4 lo divido per il primo denominatore quindi 4 diviso 2 che fa 2 e poi moltiplico per 3 ottengo 6 dico più il segno 4 diviso 4 fa 1 per 7 fa 7 4 diviso 2 fa 1 per meno 1 fa meno 2 poi 4 diviso 4 fa 1 per 5 meno 5 e infine 4 diviso 4 1 fa 4 per 1 4 quindi più 4 chiudo la parentesi al quadrato e poi più 5 quindi adesso occupiamoci della prima parentesi tonda quindi 5 quarti lo ricopio per qui abbiamo il 15 più 10 che fa 25 meno 3 fa 22 qui la parentesi tonda posso non metterla più perché ho un solo risultato 22 quindicesimi chiuso la quadra meno nella parentesi tonda qui ho 7 meno 2 meno 5 che da 0 quindi li cancello e mi rimane il 4 più 6 che fa 10 quindi ho 10 quarti la seconda più 4 e più 5 scusate ok qui adesso nella prima parentesi quadra dobbiamo fare questo prodotto però prima di farlo possiamo semplificare perché beh perché 5 e 15 hanno divisori comuni che è 5 quindi divido per 5 qui mi rimane 1 e qui mi rimane 3 il 22 e il 4 hanno divisori comuni che è il 2 quindi divido tutto per 2 qui rimane 2 e qui mi rimane 11 la stessa cosa nell'altra parentesi tonda il 10 quarti la frazione è semplificabile posso dividere il numeratore denominatore per 2 il 10 diventa 5 il 4 diventa 2 quindi dalla prima quadra abbiamo 11 per 1 che fa 11 diviso 2 per 3 che fa 6 poi ho meno il 5 mezzi alla seconda fatemelo riscrivere e di nuovo ancora più 5 quindi abbiamo 11 sesti meno 5 qui devo sviluppare la parentesi per forza perché non ho regole per la somma tra potenze diverse quindi ho 25 quarti più 5 quindi la somma di tre termini 5 come se fosse 5 fratto 1 quindi cerchiamo il minimo comune multiplo tra 6 4 e 1 che è 12 il 6 si scompone in 2 per 3 4 e 2 la seconda quindi il minimo comune multiplo è 2 la seconda per 3 che è 12 12 diviso 6 fa 2 per 11 fa 22 12 diviso 4 fa 3 per 25 fa 75 e 12 diviso 1 fa 12 per 5 fa 60 ok qui facciamo 22 più 60 che fa 82 meno 75 fa 7 diviso 12 e questo conclude la semplificazione dell'espressione valeva 7 dodicesimi ci sono domande proviamo eventualmente un'altra torno indietro se serve proviamo per esempio un po' prima nel 96 ci sono 96 sempre pagina 91 che chiede semplifica la seguente espressione o calcolo il valore di questa espressione 31 decimi meno parentesi graffa 3 meno parentesi quadra un quinto più tre mezzi meno parentesi tonda tre mezzi di nuovo meno un quinto chiusa tonda chiusa quadra chiusa graffa e questa è abbastanza semplice ci copiamo prima della parentesi tonda e poi via via seguire le altre quindi il resto la copiamo 31 decimi meno graffa 3 meno quando a dire la verità questi due numeri l'un quinto e il tre mezzi potremo anche sommarli però lo faremo dopo un quinto più tre mezzi meno qui il minimo comune multiplo tra 2 e 5 ovviamente è 10 perché 2 e 5 sono primi tra loro 10 diviso 2 fa 5 per 3 è 15 poi copio il segno meno 10 diviso 5 è 2 per 1 2 chiusa tonda chiusa quadra chiusa graffa e abbiamo allora ricopriamo 31 decimi meno graffa 3 meno quadra un quinto più tre mezzi meno 15 meno 2 fa 13 decimi chiusa quadra chiusa graffa adesso ci occupiamo della parentesi quadra interna questa sommiamo quindi di questi termini ricopiamo gli altri 31 fratto 10 meno 3 meno quadra qui il minimo comune multiplo tra 5 2 e 10 è ovviamente 10 10 diviso 5 fa 2 per 1 2 più 10 diviso 2 5 per 3 15 meno 13 ok allora anche qui ricopriamo il resto 10 meno graffa 3 meno qui la tonda la quadra posso tralasciarla il denominatore è 10 il numeratore ho 2 più 15 che fa 17 17 meno 13 fa 4 qui chiusa graffa qui 4 decimi la frazione è semplificabile perché 4 e 10 hanno massimo comune divisore 2 quindi semplifico dividendo per 2 sopra e sotto qui ottengo 2 qui ottengo 5 quindi avremo 31 decimi meno qui abbiamo 3 meno 2 quinti e quindi c'è una domanda sì volevo chiedere se si può in questo caso non semplificare 4 decimi per semplificare magari direttamente il calcolo dopo essendo che sempre ma in ogni caso conviene avere sempre le frazioni ridotte ai minimi termini però si può anche non farlo sì però secondo me più la frazione è ridotta meglio è però non è sbagliato lasciarla così cioè lasciare il 4 decimi non cambia nulla qui adesso facciamo la somma tra il 3 e il 2 quinti scusate quindi abbiamo 31 fratto 10 meno qui abbiamo 3 fratto 1 quindi il minimo comune multiplo è 5 per cui 3 per 5 fa 15 meno 2 5 scusate ok quindi ci rimane 31 decimi meno 15 meno 2 che fa 13 diviso 5 qui il sommiamo 31 decimi meno 13 quinti quinti il minimo comune multiplo è 10 quindi abbiamo 10 diviso 10 fa 1 per 31 31 meno 10 diviso 5 fa 2 per 16 fa 26 quindi 31 meno 26 fa 5 decimi e 5 decimi fa un mezzo divido per 5 sopra e sotto e questo conclude l'esercizio ci sono domande? bene bene se è tutto chiaro passerei a questo nella pagina successiva che è un pochino più complesso qui l'ortografia è molto importante vediamo l'esercizio 104 io ho frazioni su frazioni quindi ho una prima frazione dove scrivo la linea di frazione lunga perché a numeratore ho 3 più una frazione 2 quinti quindi questa ripeto è la linea di frazione principale poi ho una linea di frazione secondaria che riguarda solo questa frazione al numeratore al denominatore ho altre due frazioni 2 quinti di nuovo meno un decimo poi questa frazione è seguita da un'altra meno un'altra frazione un po' più lunga al numeratore ho 4 terzi più 3 quarti al denominatore ho 5 fratto 12 meno 1 fratto 6 ok? qui abbiamo quindi frazioni che hanno numeratore e denominatore e altre frazioni quindi bisogna per uscire a operare cioè a semplificare l'espressione calcolare il divasso del numeratore e denominatore quindi questo, questo, questo e questo perché questa espressione cioè con questa frazione lunga questa per esempio è come se fosse scritto 3 più 2 fratto 5 diviso parentesi 2 quinti meno 1 fratto 10 questa linea di frazione lunga questa corrisponde alla divisione tra tutto il numeratore e tutto il denominatore quindi devo prima sommarli per poi sapere per cosa dividere quindi ripeto procediamo in questo modo ripeto la linea di frazione lunga della prima frazione al numeratore ho 3 e 5 mezzi quindi il minimo comune multiplo dei due denominatori è 5 per cui ho 5 per 3 che fa 15 più 2 al denominatore ho 2 quinti meno un decimo il denominatore comune è 10 10 diviso 5 fa 2 per 2 4 e poi ho meno 10 diviso 10 fa 1 per 1 1 poi ho meno l'altra frazione al numeratore ho 3 quarti più 4 terzi il denominatore comune è 12 3 per 4 quindi ho 12 diviso 3 che fa 4 per 4 16 più 12 diviso 4 che fa 3 per 3 9 al denominatore della seconda frazione ho 5 dodicesimi meno un sesto il denominatore comune è ancora 12 poi ho 12 diviso 12 che fa 1 per 5 5 meno 12 diviso 6 che fa 2 per 1 2 qui adesso andiamo a eseguire le somme nei vari numeratori e denominatori quindi la prima frazione lunga 15 più 2 fa 17 15 al denominatore ho 4 meno 1 che fa 3 decimi qui attenzione è importante non confondere queste linee di frazione questa è la frazione principale queste sono le frazioni che riguardano questo è solo il numeratore questo è solo il denominatore qui ripeto l'ortografia è importante ortografia significa segno corretto scrivo prima linea di frazione principale al numeratore ho 16 più 9 che fa 25 diviso 12 al denominatore ho 5 meno 2 che fa 3 diviso 12 anche qui il 3 e il 12 sono semplificabili quindi qui divido per 3 sopra e sotto e un quarto e proseguo in questo modo adesso se ho se guardiamo la prima frazione grande questa questa è equivalente a 17 scusate 15 diviso 3 decimi ma abbiamo visto che la divisione tra frazioni posso scriverla come la prima frazione per l'inverso della seconda lo stesso vale per l'altra questa sarà 25 dodicesimi diviso un quarto e quindi questo è equivalente a 25 dodicesimi per inverto il 4 e l'uno quindi per 4 quindi qui avremo che 17 quinti per 10 terzi meno 25 dodicesimi per 4 e adesso posso semplificare il 5 col 10 quindi divido entrambi per 5 il 5 rimane 1 il 10 rimane 2 e il 12 col 4 divido per 4 sopra e sotto qui rimane 1 e qui rimane 3 quindi abbiamo da qui rimane 17 per 2 terzi meno 25 terzi per 4 qui quindi il prodotto tra due frazioni e la frazione che ha come prodotto il prodotto dei numeratori quindi 17 per 2 che fa 34 fratto 3 per 1 che fa 3 e qui sotto è come se ci fosse 1 meno 25 per 4 che fa 100 ok diviso 3 ah no scusatemi qui il 4 non c'era perché l'abbiamo semplificato 1 non ne ho accorto qui rimane 1 quindi qui scusa voglio scrivere questo non è 100 ma è 25 terzi e qui abbiamo un compito facilitato dal fatto che abbiamo gli stessi denominatori in entrambe le frazioni quindi questa è una frazione che vale al denominatore 3 che è lo stesso della prima e della seconda e come numeratore 34 meno 25 che fa 9 9 terzi che ci dà 3 ci sono domande? se non ci sono domande procediamo ancora proviamo a fare questo dove c'è qualche potenza per sviluppare e vi propongo il 110 il testo è questo spero che lo vediate parentesi tonda anche qui ho frazioni multiple questa è la linea di frazione principale questa frazione ha come denominatore 3 e come numeratore un mezzo poi più attenzione il più va allineato alla frazione principale che è questa non a questa questo rappresenta in realtà un unico numero a cui sommo il resto seguo un'altra frazione multipla questa è la frazione principale al denominatore ho un 4 al numeratore un terzo poi ancora più un'altra frazione multipla al denominatore ho un 3 e al numeratore un quarto di nuovo chiuso la tonda al quadrato questa viene divisa per scrivo di sotto perché non ho più spazio un'altra tonda altra frazione multipla al denominatore ho un 2 al numeratore ho un terzo poi meno altra frazione multipla al denominatore ho 3 al numeratore ho un quarto chiuso al quadrato ok qui fatemi prima aprire una parentesi prendiamo la prima frazione se ho un mezzo fratto 3 ok abbiamo visto che questo è equivalente a dire un mezzo diviso 3 a 3 posso pensarlo come 3 diviso 1 quindi questo è uguale a dire un mezzo per un terzo cioè un sesto ok quindi una frazione di questo tipo quindi è equivalente a un mezzo cioè un numero 2 per 3 quindi moltiplico questo denominatore con questo più in generale se ho una frazione multipla dove ho un denominatore chiamiamolo C e il numeratore A fratto B allora ho come A fratto B diviso C cioè A fratto B per 1 fratto C e quindi ho una frazione che ha come numeratore A come denominatore B per C attenzione a a questa situazione se avessi invece il numeratore A e al denominatore un'altra frazione B fratto C questo è un caso questo è un altro allora qui ho A diviso B C che è equivalente a dire A per C fratto B quindi questo vale una frazione che ha come numeratore A per C e come denominatore B quindi è ben diversa dalla precedente ok quindi attenzione quindi torniamo al nostro esercizio e fatemelo ricopiare ecco lo scrivo qua sotto bene quindi qui abbiamo nella prima frazione multipla quindi cominciamo con la tonda abbiamo un sesto più un terzo diviso 4 è uno fratto 3 per 4 quindi un dodicesimo più un quarto diviso 3 di nuovo è uno fratto 4 per 3 che fa di nuovo 12 tutto al quadrato diviso l'altra tonda un terzo diviso 2 è uno fratto 3 per 2 che fa 6 meno un quarto diviso 3 è uno fratto 4 per 3 che fa 12 adesso dobbiamo sommare ciò che c'è all'interno di ciascuna parentesi questa parte e poi questa quindi avremo nella prima parentesi abbiamo tre denominatori 6 12 e 12 il minimo comune multiplo è 12 12 diviso 6 fa 2 per 1 2 più 1 e ancora più 1 tutto al quadrato diviso nella seconda parentesi abbiamo due denominatori 6 e 12 quindi il minimo comune multiplo è 12 12 diviso 6 fa 2 per 1 2 e poi meno quindi dalla prima parentesi abbiamo 2 più 1 più 1 che fa 4 quindi 4 fratto 12 alla seconda diviso 2 meno 1 fa 1 diviso 12 alla seconda ok qui abbiamo 4 diviso 12 che è semplificabile quindi rimane 1 e qui ho 3 divido tutto per 4 quindi ci ritroviamo con un terzo alla seconda diviso un dodicesimo alla seconda qui attenzione abbiamo lo stesso numero esponente quindi possiamo applicare la regola che abbiamo visto all'inizio lezione se ho due frazioni due potenze una diviso l'altra che hanno lo stesso esponente posso fare prima la divisione quindi un terzo diviso un dodicesimo e dopo elevare al quadrato che è più semplice perché un terzo diviso un dodicesimo è come dire un terzo per 12 qui 3 e 12 sono semplificabili divido tutto per 3 qui mi rimane 1 qui ho 4 quindi questo vale 4 elevato al quadrato per gli amici 16 e sul più bello l'esercizio è finito ok ci sono domande volevo se riusciamo proporvi anche questo che è simile al precedente quello subito dopo il 105 anche questo ha frazioni multiple parentesi tonda qui una frazione multiple dove ho al numeratore 2 al denominatore 1 meno un mezzo poi ho meno altra frazione multiple al numeratore ho 1 meno un mezzo il denominatore 2 poi ho meno 3 chiuso la tonda al quadrato allora qui bisogna fare prima il calcolo del numeratore sempre il denominatore delle frazioni multiple ok perché questo è come se fossero tra parentesi quindi tonda 2 prego il numero non ho capito questo è il 105 ok stessa pagina di prima quindi abbiamo 1 meno un mezzo andiamo con i piedi di piombo il denominatore comune è 2 2 per 1 fa 2 meno 1 meno qui anche il denominatore comune è 2 quindi qui ho meno 1 qui la frazione è 2 meno 3 tutto il quadrato quindi al numeratore qui ho di nuovo 2 2 meno 1 fa 1 quindi qui ho un mezzo al denominatore meno in frazione lunga 2 meno 1 fratto 2 fa un mezzo diviso ancora 2 meno 3 ok qui ho 2 diviso un mezzo come 2 dire 2 per l'inverso di un mezzo quindi 2 facciamo ancora più lentamente questa espressione significa 2 diviso un mezzo qui invece abbiamo un mezzo diviso 2 poi abbiamo meno 3 quindi 2 diviso un mezzo è come dire 2 per l'inverso di un mezzo che è 2 o meno un mezzo per l'inverso di 2 che è un mezzo di nuovo meno 3 2 per 2 fa 4 meno un mezzo per un mezzo fa un quarto moltiplico tra loro il numeratore e il denominatore per o meno 3 ok qui mi conviene visto che ho visto che ho due interi fare prima la somma di 4 e di meno 3 quindi questa posso scriverla come 4 meno 3 meno un quarto fa 1 quindi ho 1 meno un quarto alla seconda 1 meno un quarto è il denominatore comune 4 qui ho 4 qui ho meno 1 e quindi 3 quarti alla seconda cioè 9 fratto 16 mi sembra di sentire che ci sono domande no ok vediamo se riusciamo a fare ancora un esercizio dove sono coinvolti maggiormente le proprietà delle potenze poi facciamo una pausa proviamo anche questo esercizio 114 sempre pagina 92 il testo è questo allora parentesi graffa parentesi quadra parentesi tonda due terzi alla quinta con 5 potremmo disegnare un poco meglio ecco per due terzi alla quarta chiusa quadra alla seconda diviso ancora quadra ancora tonda due terzi chiusa tonda alla terza chiusa quadra alla quinta più continuo sotto due terzi alla seconda più due terzi chiusa la graffa diviso 19 noni scusami due terzi hai ragione tu ho scritto ecco ok allora qui cominciamo a sviluppare le potenze perché nella prima quadra abbiamo un prodotto tra due potenze che hanno la stessa base ma esponente diversa quindi queste due ripeto non conviene sviluppare le potenze fare due alla quinta diviso tre alla quinta perché avrei numeri enormi gli conviene sfruttare proprio le proprietà delle potenze che sono proprio pensate fatte per agevolare i calcoli quindi qui avrò parentesi quadra graffa scusate quadra qui la base era due terzi l'esponente sarà la somma degli esponenti 5 più 4 che fa 9 uso quadra alla seconda qui poi avremo il prodotto degli esponenti diviso qui ho la la parentesi la quadra la tolgo perché sviluppo il prodotto la base due terzi allevato alla 3 per 5 perché ho una potenza di potenza divinato alla quindicesima più due terzi alla seconda più ancora di seguito due terzi chiusa la quadra la graffa qui diviso 19 noni e posso cambiarlo in per 9 diciannovesimi quindi cambio la divisione in prodotto perché è più semplice torniamo alla nostra quadra qui diamo graffa due terzi la nona ancora la seconda devo fare il prodotto di questi due esponenti questi si moltiplicano tra di loro quindi ho due terzi da 2 per 9 che fa 18 diviso due terzi alla quindicesima più due terzi alla seconda più ancora due terzi tutto moltiplicato per 9 diciannovesimi qui ho una divisione tra due potenze che hanno la stessa base quindi dovrò fare la differenza tra 18 meno 15 come esponente quindi avrò due terzi 18 meno 15 fa 3 due terzi alla terza più due terzi alla seconda più ancora due terzi chiusa graffa per 9 fratto 19 qui abbiamo la somma di potenze qua hanno la stessa base ma esponenti diversi però una somma e non c'è nessuna regola che mi agevoli la somma qui per eseguire la somma devo prima fare le potenze non c'è altro mezzo quindi due terzi alla terza diventa due terzi che fa 8 diviso 3 alla terza che fa 27 più 2 alla seconda che fa 4 3 alla seconda che fa 9 più ancora due terzi tutto per 9 su 19 ora qui il minimo comune multiplo è ovviamente 27 3 alla terza quindi qui ho 8 più 27 diviso 9 fa 3 per 4 per 4 più 27 diviso 3 fa 9 per 2 18 per 9 diciannovesimi quindi abbiamo qui facciamo la somma quindi posso trascurare le parentesi il dominatore è 27 8 e 12 fa 20 più 18 38 e poi ho un per 9 fratto 19 qui come vedete i 27 e i 9 sono semplificabili ecco qui divido per 9 rimane 1 divido per 9 rimane 3 e anche 19 e 38 sono semplificabili divido per 19 qui rimane 1 e qui rimane 2 quindi in totale ho una frazione che ha come numeratore 2 per 1 che fa 2 come denominatore 3 per 1 che fa 3 cioè 2 terzi ok ci sono domande? bene facciamo una pausa ok riprendiamo e io volevo proporvi ancora un paio di esercizi vediamo per esempio il 118 sempre a pagina 93 il cui testo è questo anche qui c'è una frazione multipla una riga lunga di frazione nel numeratore abbiamo 3 mezzi alla seconda meno parentesi quadra tonda 3 mezzi alla sesta chiusa quadra alla seconda diviso quadra di nuovo tonda di nuovo 3 mezzi alla seconda e poi alla sesta al denominatore abbiamo quadra parentesi tonda 3 mezzi elevato alla ventesima diviso 3 mezzi elevato alla 18 chiusa quadra diviso ancora 3 mezzi ok ok allora qui è essenziale ovviamente l'uso opportuno delle proprietà delle potenze per prima cosa facciamo la potenza di potenza questa nella quadra e quest'altra nella quadra quindi abbiamo quindi abbiamo frazione lunga qui abbiamo 3 mezzi la seconda meno qui ho 3 mezzi elevato alla qui ho un prodotto di una potenza di potenza quindi faccio scusate il prodotto degli esponenti 6 per 2 che fa 12 e quindi qui lo segno se volete questo 6 per 2 qui avrò 2 per 6 per lo stesso motivo quindi diviso anche qui 3 mezzi alla 2 per 6 di nuovo 12 al denominatore ho una divisione tra potenze della stessa base quindi faccio la differenza degli esponenti quindi avrò 20 meno 18 quindi abbiamo 3 mezzi alla 20 meno 18 che fa 2 diviso 3 mezzi qui attenzione abbiamo fatemi andare un poco più sotto ci vedete meglio allora il 3 mezzi alla seconda lo si ricopia il primo poi ho meno 3 mezzi alla 12 meno 12 12 meno 12 perché l'esponente è lo stesso quindi ho 3 mezzi alla 0 che mi darà 1 però posso tornare un po' più sopra certo così va bene ancora un po' continuo qui abbiamo 3 mezzi alla 2 meno 1 che fa 1 come se ci fosse 1 qui ho la divisione quindi devo fare la sottrazione degli esponenti quindi abbiamo questa frazione multiple dove al numeratore ho 3 mezzi la seconda meno 3 mezzi alla 0 fa 1 e sotto 3 mezzi alla 1 che fa solo 3 mezzi qui al numeratore per fare il calco devo sviluppare il quadrato quindi avrò 9 quarti meno 1 fratto 3 mezzi questo ci dà posso scrivere anche qui c'è abbastanza spazio il denominatore comune è 4 qui ho 9 qui ho meno 4 e qui 3 mezzi del denominatore 9 meno 4 fa 5 quarti tutto fratto 3 mezzi quindi ho 5 quarti diviso 3 mezzi che è uguale a 5 quarti per 2 terzi qui posso semplificare il 2 e il 4 e mi ritrovo con 5 per 1 5 numeratore 2 per 3 6 denominatore 5 sesti ok e infine vorrei finire con questo esercizio se non ci sono domande il 130 a pagina 93 che ha questa espressione quadra tonda un mezzo alla quarta per tonda un mezzo all'ottava diviso sempre tonda un mezzo alla decima più un terzo alla terza per un terzo alla quinta diviso tonda un terzo alla settima più proseguo sotto un quarto alla seconda chiusa quadra per di nuovo quadra tonda 3 quinti alla quarta per 5 terzi alla quarta meno 9 settimi alla quinta per 7 nonni alla quinta chiuso la quadra anche qui usiamo la proprietà delle potenze nella prima parentesi quadra abbiamo le prime tre potenze che sono della stessa base un mezzo con un prodotto tra le prime due una divisione con la terza quindi qui avremo occupiamoci per esempio per la prima cosa di questo prodotto ne avremo un mezzo elevato alla 4 più 8 che fa 12 poi diviso un mezzo alla 10 più che abbiamo un terzo alla terza per un terzo alla quinta che fa un terzo all'ottava diviso un terzo alla settima più ancora un quarto alla seconda chiudo la quadra per altra quadra qui attenzione abbiamo due potenze che hanno basi diverse ma lo stesso esponente quindi possiamo fare prima il prodotto e poi la potenza quindi prendo tre quinti per cinque terzi tutto alla quarta idem nell'altro caso faccio nove settimi per sette noni tutto se una tonda è alla quinta scusate devo scrivere un poco meglio se no non si capisce ecco sette noni alla quinta chiusa quadra allora qui abbiamo che il tre va via col tre il cinque col cinque e ne rimane uno il nove va via col nove cambiamo colore magari meglio il sette col sette e rimane una e qui c'è un meno però in mezzo scusate ho bagliato il segno questo è un meno ok quindi qui abbiamo dalla prima quadra viene un mezzo alla dodici meno dieci che fa due più un terzo alla ottava o l'otto meno scelte che fa uno più di nuovo un quarto alla seconda poi ho per uno alla quarta meno uno alla quinta ma uno alla quarta fa uno questo è uno uno alla quinta fa uno e uno meno uno fa zero ok questo ci facilita i calcoli perché che qualunque cosa ci sia nella parentesi precedente e sono sicuro che questo è diverso da zero perché è una somma di grandezze non nulle moltiplicato per zero fa zero non serve che faccio altri calcoli qualunque cosa ci sia nella prima parentesi per zero mi da sicuramente zero e l'esercizio finisce qui devo attenzione a assicurarmi dimmi può tornare un attimo qui in su certo grazie qui va bene sì sì ok dimmi in questo caso se vediamo che uno meno uno cioè una alla quarta meno una alla quinta fa zero certo ma allora non serve fare i calcoli prima o comunque li scriviamo beh è opportuno arrivare fino al punto in cui ti accorgi che una grandezza è moltiplicata per zero sarebbe un problema se se ci fosse zero alla zero ecco quello sì ti produce qualcosa che non puoi calcolare ma posto che il numero precedente cioè nella parentesi quadra prima non è zero moltiplicato per zero fa zero e anche se qui ci fosse zero qui andrebbe bene lo stesso perché zero per zero fa comunque zero se invece qui ci fosse una divisione tra le due quadri questo creerebbe delle difficoltà perché se qui ci fosse diviso anziché per questa espressione sarebbe priva di senso perché non posso dividere niente per zero in quel caso diresti che il calcolo è impossibile invece qui moltiplicando per zero anche se fosse zero per zero farebbe comunque zero bene se non ci sono altre domande mi fermo qui che ci sono Grazie.